Allora io faccio una breve introduzione all'intervento del mio collega dell'unità idraulica. Il nostro intervento riguarda un grosso intervento infrastrutturale che è stato aperto al traffico nel fine 2015 che è la variante di Valico. Quindi mi sembra doverosa farò una rapida carrellata per mostrare le principali caratteristiche di questo intervento. Innanzitutto perché la variante di Valico? La dorsale appenninica rappresenta in un certo modo, ce ne accorgiamo tutti, ce ne siamo accordi tutti percorrendola, rappresenta la spina dorsale dell'Italia per quanto riguarda la mobilità. Abbiamo grossi volumi di traffico, in particolare traffico pesante, quindi una grossa incidenza di volume, di un 30% del volume di traffico occupato dal traffico pesante. La vecchia A1 era ormai caratterizzata a livelli di servizio abbastanza minori rispetto allo standard. Era stata progettata per velocità di molto inferiori a quelle a cui siamo abituati oggi e soprattutto progettata per velocità di veicoli pesanti molto basse. Non so se è capitato ad alcuni di voi di percorrere il tratto penninico nelle ore serali e trovare in terminale vivicode che partono dal sasso da Marconi e arrivavano fino al valico di Citerna. Questo perché? Perché è un veicolo a pieno carico sulle pendenze, infatti abbiamo delle zone con pendenza del 3% che sembra poca ma sviluppata su un grosso tratto, un veicolo che viaggia costato a viaggiare 40 km all'ora costringe a viaggiare alla stessa velocità tutti i veicoli che seguono. e quindi grossi ingorghi, quindi blocchi di traffico. Non ultimo, la vecchia penninica aveva un tasso di incidentalità molto alto e dei costi di manutenzione che erano significativamente più elevati rispetto a quelli degli altri tratti autostradali. La variante di valico rientra, fa parte comunque di un più vasto progetto di ammodernamento dell'autostrada 1 tra sasso Marconi e Barberino di Mugello. Questo tratto appunto comprende un tratto di ammodernamento in sede che è stato aperto nel 2006 che vediamo appunto che va da sasso Marconi a Rioveggio e il tratto vero e proprio denominato variante di valico che va da Rioveggio fino a Barberino di Mugello. Si chiama variante perché è realizzata interamente in un sedime nuovo ed indipendente e lascia praticamente libera la scelta all'utenza di utilizzare il vecchio tracciato autostradale che è questo qua verde oppure il nuovo tracciato autostradale. Vedendo la planimetria possiamo già renderci conto di quali sono state le migliorie. Vediamo la vecchia la vecchia autostrada era molto tortuosa perché diciamo i nostri predecessori chiaramente avevano a che fare con le tecnologie dell'epoca per cui hanno cercato con il tracciato di evitare quelli che erano le particolarità, le problematiche realizzative che non potevano affrontare con i mezzi dell'epoca. La nuova autostrada come vedete ha un tracciato molto più fluido e adesso vedremo anche il perché riesce davvero. Quello che praticamente si trasforma in un vero beneficio per l'utenza oltre a quello che abbiamo visto appunto un tracciato caratterizzato a curve più dolci quindi velocità di progetto più elevate è l'altimetria. La nuova autostrada corre infatti a una quota di valico che è di circa 200 metri inferiore a quello della vecchia autostrada. Qua vediamo il tratto in ammodernamento che chiaramente riprende la vecchia autostrada e qua vediamo il tratto nuovo. Questo quadro che è riprenditivo, adesso non pretendo che riuscite a leggere i nomi di tutte le singole opere, ci fa vedere però quali sono le opere d'arte che sono state richieste dalla realizzazione di questa autostrada. Abbiamo parlato di grandi benefici per l'utenza ma a prezzo, e lo vediamo dalla ripartizione delle singole opere d'arte sotto il tracciato, a prezzo di notevole sforzo progettuale e realizzativo perché il 50% del tracciato dell'autostrada 1, c'è circa 60 km, corre in galleria, il 18% in viadotto e solo il 32% in sedime naturale. Vediamo la presenza di poche gallerie, è molto lunga, la più lunga è la galleria di base, che ha uno sviluppo superiore agli 8 km, pochi viadotti, come vedremo sono viadotti particolarmente importanti. Io parlerò essenzialmente, diciamo, delle strutture all'aperto, sono responsabile delle unità strutture, sono avuto la fortuna di seguirle tutte. Queste sono le opere maggiori, raggruppate, diciamo, in un istogramma che riporta la lunghezza complessiva di ciascuna singola opera. Abbiamo 22 opere, per uno sviluppo totale di quasi 11 km, e una lunghezza complessiva che va dai 100 fino ai quasi 1200 metri, quindi opere... L'ampiezza del piano di viabile va da circa 12 metri fino a quasi 19 metri, e i viadotti ospitano generalmente una carreggiata a tre corsie più emergenza, questo soprattutto nel tratto di ammodernamento, oppure a due corsie di emergenza, che è tutto il tratto invariante. La luce massima di campata è di 105 quasi... scusate... La massima luce che viene impiegata sulla variante di Valico arriva a 148 metri sul viadotto aglio, che corre un'altezza massima da suoi 90 metri. Questo... parlo direttamente ad altavoce se mi sentite. Il grafico che vediamo qua a fianco riporta la luce massima della singola campata. Come vedete si tratta di opere particolarmente importanti dal momento che abbiamo poche opere di luce inferiore agli 80 metri. Quindi tutte le opere hanno luci comprese tra gli 80 e i 120 metri. Gli obiettivi, allora, nella progettazione delle opere e delle opere d'arte, gli obiettivi chiaramente che volevamo conseguire erano quelli, oltre di conseguire una certa possibilità, di avere un'elevata affidabilità strutturale, durabilità, quindi hanno indicato un certo sforzo nel ricercare soluzioni standardiche che potessero prestarsi a un'attività di manutenzione, di manutenzione ordinaria, molto speditiva e possibili da portare avanti. E alcune opere che potessero essere caratterizzate da buon inserimento nel territorio. Di fronte a dei vincoli piuttosto sfidanti, l'Appennino è una delle zone che dal punto di vista delle condizioni geotecniche è tra le più complicate. Altra cosa importante da tenere conto, che abbiamo dovuto tenere conto, è il fatto che essendo un tercetto completamente fuori dalle grandi vie di comunicazione, la cosa che abbiamo dovuto tenere conto è l'accessibilità dei luoghi. Quindi abbiamo avuto a che fare con fare i conti con una schedulazione delle operazioni e dei vari piuttosto impattanti, dal momento che molte delle vie che man mano venivano create venivano utilizzate anche come via di cantiere. Poi vediamo appunto i casi, qua sono i virotti Fiumicello, che sboccano da delle gallerie e sono stati usati per un certo periodo di tempo come viabilità di cantiere e per far trasitare i mezzi che dovevano passare per realizzare gli altri luoghi. Soluzioni progettuali che abbiamo prescelto, come abbiamo visto prima, sono accampate di luce medio-elevata, andiamo a avere 60 metri, 150 metri circa, una scelta appunto di un sistema iperstatico, tra le contiglia, quindi con l'assenza dei possibili digiuti, e l'adozione sistematica di fondazioni profonde. Questo perché in un testo geomorfologico vedeva, nella maggior parte dei casi, la presenza di strati superficiali, dotati di scarsi, caratteristiche, diciamo. Abbiamo anche le soluzioni standard, diciamo che sistematicamente per tutte le opere fino ai 120 metri di luce è stato utilizzato la struttura composta acciaio palcestruzzo. Questo perché l'acciaio palcestruzzo è una tipologia strutturale estremamente versatile e adattabile, la sua economicità trova appunto il medio tra i 60 e i 120 metri, quindi copre un amplissimo spiegelo di luci. Può essere variato in svariati modi, quindi questo a chi era consentito di tarare per ciascuna condizione la progetta metodologia di barra, e anche la presenza della durabilità, con la posizione di tarare per ciascuna condizione di barra, ha sicuramente dei punti notevoli a favore. La tipologia, lo schema statico adottato è stato quasi sistematicamente quello del cassone equivalente, avendo dotato gli allenamenti principali di travi mediante un bracing reticolico inferiore, il che ha consentito di ottenere un'estrema efficienza di tutti gli impalcati anche con luci, quindi di allungare notevolmente le luci di lavoro. I rapporti di luce all'altezza utilizzati sono abbastanza snelli, andiamo generalmente dal diciottesimo fino al ventiduesimo della luce come altezza complessiva. Questo ha comportato chiaramente per i viadotti di luce maggiore, parliamo di quelli di punto di circa 120 metri, comunque di mettere in opera delle travi di altezza notevole. Qui vediamo il viadotto Lagaro, ad esempio, che ha 120 metri di luce e ha una trave di circa quasi 5 metri di altezza, di trave più solette. I sostegni, qua vediamo il viotto Casaglia, della cui zona vi parlerà il collega con un intervento un po' più calato sul tema del seminario. I sostegni, dicevo, sono praticamente tutti a struttura scatolare, salvo quelli realizzati in alveo che sono a fusto circolare pieno con un pulvino, soluzione che si tende a fare molto di meno ultimamente, dal momento che richiede un certo onere realizzativo per la movimentazione della casseratura. Come dicevamo, le fondazioni a pozzo, qua ne vediamo un esempio, le fondazioni sono tutte a pozzo, pozzi che sono generalmente debolmente armati, qua ne vediamo una successione delle fasi di lavorazione. Sistemi di varo di questi impalcati standard sono stati essenzialmente due, il varo frontale a spinta, il varo frontale a spinta è utilizzato nella maggior parte dei casi in cui il tracciato lo consentiva, ricordiamo che il varo incrementale richiede un tracciato rettilineo o su curvatura costante, che ha il varo che consente di limitare al minimo le interferenze con il territorio, dal momento che viene collocato un campo di varo a tergo di una delle spalle e l'impalcato viene estruso senza necessità di creare impattanti piste di cantiere. In altri casi, in tutti gli altri casi in cui non è stato possibile utilizzare il varo a spinta, è stato utilizzato il classico varo con autogru, che date appunto le dimensioni delle trave, ha richiesto la realizzazione comunque di pile provvisorie, comunque di pista di cantiere per alimentare le varie zone di sollevamento. Ricordo che appunto data l'altezza delle travi, abbiamo delle travi che variano tra i 4 metri, 5 metri e mezzo, le travi sono sono state assemblate, trasportate in opera, separate longitudinalmente, quindi è stato necessario eseguire in opera una saldatura longitudinale, dal momento che non risulta possibile trasportare dei manufatti senza particolare autorizzazione, di manufatti di altezza superiore a 2 metri e mezzo o 3, e quindi questo richiesto di separare le travi a doppio T in due T, poi dopo successivamente assemblate in opera o a pied opera. Vediamo due opere che non rientrano nello standard appena visto, dell'acciaio e calcio e struzzo, sono due opere in cemento armato precompresso, perché il cemento armato precompresso? Perché riesce questa tipologia a fornire un po' quella marcia in più in condizioni particolari, e qua sul viadotto Reno vediamo una configurazione abbastanza singolare, siamo nei pressi di Sassomarconi, scavalchiamo il Reno, il cui alve è formato da una zona golenale abbastanza vasta, da una zona attiva che ha richiesto l'inserimento di una campata di grande luce. Abbiamo usato un attraverso, riuscendo a tarare opportunamente la precompressione, quindi usando poca precompressione sulla zona delle campate tipiche, da 45 metri, e una precompressione molto più pesante nella zona della campata lunga che scavalca l'alto. Un'altra soluzione che è stata adottata per riuscire a ottenere un ragionevole bilancio costi e benefici, quindi avere tra l'altro una struttura affidabile, è stata quella di utilizzare delle pide speciali inclinate che hanno praticamente trasformato la sequenza luci originale che vedeva un 90-135-90 in una sequenza di luci più dolci, che ha praticamente consentito di realizzare uno schema a telaio, dal momento questo viadotto poi è stato reso integrale con le pide che ha dato quella marcia in più per poter utilizzare appunto questa trave su luci elevate. Viadotto aglio si commenta da solo, è un classico balance di cantilever di 148 metri di luce, quindi una luce notevole, non notevole. È un viadotto con schema a telaio in cui non abbiamo dispositivi di vincolo tra le sottostrutture e l'impalcato, ma le pile sono rese integrali con l'impalcato stesso. Per far funzionare bene questa struttura la parte sommitale delle pile è utilizzata con dei setti molto flessibili che consentono di assorbire le coazioni indotte dalle deformazioni termiche, ritiro e viscosità, senza praticamente sforzi eccessivi nei sostegni. Qua vediamo un'immagine del viadotto Reno, viadotto realizzato anche in questo caso con il metodo del varo frontale. Ha dei numeri particolarmente importanti dal momento che per velocizzare l'operazione e la realizzazione è stato realizzato suddividendolo in conci di 45 metri, quindi avevamo una produzione media di 45 metri a settimana, quindi con una produzione quasi da prefabbricazione spinta. Il peso complessivo della travata estrusa, trattandosi di un ponte in cemento amato precompresso, era abbastanza importante. Nelle ultime fasi di varo il ponte è lungo 570 metri e pesava 19 mila tonnellate e questo ha richiesto lo sviluppo di un'azione di spinta sulla centrale di spinta di 1300 tonnellate per vincere attriti e effetti di pendenze varie. Qui vediamo alcune immagini delle fasi soprattutto di realizzazione delle pile inclinate. Queste pile inclinate sono formate da dei gusci metallici che sono stati riempiti in seconda fase con qualche struttura autocompattante. Qua vediamo appunto la fase di riempimento. Al termine dell'estrusione del viadotto è stata realizzata la connessione che ha reso integrale le persone con la sottostruttura. Qui il viadotto aglio, vediamo qualche altra qualche altra immagine, ha una soletta di dimensioni importanti, dal momento del viadotto aglio è situato sulla confluenza tra la variante di valico e il drecciato storico. Quindi la soletta ospita 4 corsie più emergenza per una larghezza totale che va da 18 metri fino ai 21 metri. Qua vediamo, apprezziamo un po' meglio le caratteristiche dei sostegni, che appunto vedete hanno una parte scatolare inferiore molto robusta e una parte molto flessibile sommitale. Questa parte flessibile ha la stessa lunghezza per tutti e quattro i sostegni e questo riesce a conferire su una struttura fortemente irregolare come questa che è caratterizzata da pile molto differenti, riesce a conferire comunque una regolarità tale da trasmettere in fondazione comunque una sollecitazione per effetti coattivi piuttosto uniforme. Questa è un'immagine del viadottoreno. Il varo, come abbiamo detto, è un varo bilanciato, la suddivisione in conci vede una lunghezza variabile dal momento che viene, man mano che il concio si sfina andando verso la mezzeria dell'impalcato, viene allungato in modo da mantenere un peso pressoché costante sulle strutture di varo e quindi da ottimizzare la struttura di varo. Qui vediamo uno schema della successione dei vari. Come vedete qua vengono realizzate, sono state realizzate per prime i due sostegni posti all'esternità e per ultimi i sostegni centrali fino a chiudere, qua siamo in una delle fasi finali, a chiudere l'impalcato sulla mezzeria della luce e delle luci intermedie. Quindi lascio la parola per un intervento un po' più calato sul tema del seminario al collega De Paoli che parlerà invece del viadotto Casaglia e della zona della situazione traudica.